Dalla radio all'web, come definisci questa nuova avventura? È un'avventura stimolante perché comunque le nuove frontiere dell'informazione vanno esplorate tutte. Io sono nato con la radio, lavoro in radio da 15 anni, da 10 anni a TGS e RGS ho la fortuna di poter eseguire il Palermo con le mie radiocronache, ma scrivere, parlare di sport, dedicarsi allo sport è una passione che non si può in un certo senso contenere, quindi tutte le strade vanno esplorate. Questa è una nuova avventura che affronto con grande entusiasmo, con grande voglia di fare e vedremo dove ci porta. Come farai sentire la tua voce storica attraverso il web? Sarà una voce scritta e parlata, non sarà una voce audio, la farò sentire attraverso innanzitutto le pagelle, che credo che siano una cosa bella attraverso la quale tutti potranno anche leggere come io ho letto la partita a mente fredda, perché è chiaro che sciolta da quella che è l'immediatezza della radiocronaca, le pagelle rappresentano anche un giudizio che spero i tifosi che leggeranno Bloc Sicilia troveranno gradevole, e poi attraverso due pezzi di preparazione, uno di introduzione alla partita e poi un pezzo di commento alla partita e al campionato. Ci sarà anche una piccola chicca perché per i lettori di Bloc Sicilia ci sarà un appuntamento settimanale con l'altra voce, cioè con il radiocronista della parte avversa, dell'altra squadra, che darà un'immagine anche graziosa e un po' diversa dal solito dell'avversario del Palermo. Quanto il Palermo occupa il tuo cuore? Lo occupa totalmente dal punto di vista sportivo, è ovvio che è una passione che difficilmente può essere spiegata, può essere spiegata con la passione di un ragazzino che a sette anni ha fatto per la prima volta il suo ingresso allo Stadio Barbera, io ne ho 45, praticamente sono 38 anni che sono legato a questa squadra. Credo che questo sia sufficiente, sono quelle classiche cose che non devono essere spiegate, devono essere soltanto vissute, io ho la fortuna tra l'altro di viverla doppiamente, sia come grande tifoso che come giornalista. Grazie a tutti.